Fabio, siamo qui appunto per parlare di Nata per te, il tuo film che è uscito nelle sale che è adesso nelle sale e tu hai adattato in questo caso per il grande schermo la storia vera di Luca Trapanese della piccola Alba, che è stata adottata da Luca nel 2018, una storia che ha avuto una risonanza mediatica che molti insomma conoscono, però il film presenta una pluralità di voci molto particolare, quindi come avete lavorato tutti insieme, tu come regista insieme anche agli altri sia in fase di sceneggiatura sia poi con gli attori, per costruire un racconto corale dove ogni personaggio poi restituisce una sfumatura diversa della realtà. Allora questo lavoro ovviamente è iniziato già in scrittura perché noi siamo partiti dal libro Nata per te, scritto a Luca Trapanese e Luca Mercadante e in sceneggiatura assieme a Giulia Calenda e Furi Andreotti abbiamo, in realtà ci siamo, abbiamo, siamo ispirati al libro, ce ne siamo staccati e laddove appunto nel libro era un racconto molto raccolto tra due personaggi, nel film abbiamo deciso di trasformarlo in un racconto corale proprio perché la sensazione era che la storia fosse molto complessa, in realtà il gesto di Luca, l'adozione, il gesto di voler adottare è un gesto molto semplice, anche meraviglioso nella sua essenza, no? Un padre, un genitore, una madre vuole prendersi cura, vuole adottare un bambino, una bambina. Eppure in Italia purtroppo questo gesto è estremamente complicato, perché? Perché la legge sulle adozioni è in Italia una legge ferma al 1983 e quindi rispecchia una società del 1983, la società nostra è cambiata tantissimo e purtroppo questa legge, come tante altre, è rimasta indietro. E quindi proprio per raccontare questo contrasto tra la semplicità del gesto di Luca e la complessità della realtà in cui poi questo gesto viene accolto e si muove, abbiamo capito che c'era bisogno di raccontare l'insieme. Quindi da lì è nata l'idea di di creare il personaggio, ad esempio, della giudice Gian Felici, interpretata da Barbara Bobulova. Provo a raccontare il punto di vista di chi deve ovviamente emettere una sentenza, deve prendere una decisione rispetto a questa adozione e lo deve fare non avendo, avendo dei mezzi che sono limitati, proprio per, come dicevo io, il problema che c'è con questa legge che è obsoleta e quindi la decisione che lei deve prendere è estremamente complessa e la raccontiamo, non, la giudice nel film non è la nemica di Luca, non è l'antagonista della storia, ma anzi è un personaggio che nel prendere questa decisione lo deve fare con i pochi mezzi che ha e anche nel modo più asettico possibile, perché è quello che richiede il suo ruolo, sapendo che poi appunto andrà a mettere una sentenza, una decisione epocale, come quella che è stata appunto quella che ha portato a questa adozione. E da lì anche l'idea è raccontare il personaggio di Teresa Saponangelo, ovvero l'avvocata che affianca Luca Trapanese in questo percorso, personaggio che appunto non c'era, anche questo non c'era nel libro, Luca ha fatto molto da solo in un certo senso, però abbiamo creato questo personaggio perché ci serviva a raccontare che non essendoci un percorso legale da seguire, proprio perché l'adozione per i single non esiste e neanche per le coppie omosessuali, volevamo provare a esplorare appunto i meandri che devono essere percorsi per arrivare a questa adozione, a questa grande eccezione che è l'adozione. E poi questo personaggio a cui tengo tanto anche perché è un personaggio che viene dalla periferia, che anche lei madre è single, che quindi deve conciliare lavoro e genitorialità nell'essere single e che ha scelto un lavoro in cui se viene dalla periferia insomma devi sgomitare anche un po' di più e quindi mi piaceva... e lei tra l'altro anziché scegliere i casi facili, in un certo senso se esistono i casi facili, scegli addirittura i casi quelli impossibili e mi ci rivedo un po' io in questo personaggio in un certo senso e quindi è un personaggio in cui ho inserito tanto anche del mio punto di vista su questa storia. E poi per concludere il personaggio dell'infermiera è interpretata da Antonia Truppo che è la donna che dà il nome ad Alba quando è appena nata ed è un gesto semplice che si trova un po' che deve fare perché se non lo fa lei non lo fa nessun altro e però è un gesto carico non solo a punto di vista simbolico ma anche affettivo e fondamentale e Antonia Truppo appunto fa tutte queste cose secondo me, dà questa importanza a questo ruolo però per la carica simbolica ed emotiva. E poi la madre di Luca Traponese interpretata da Iaia Forte che ovviamente è quel lato diciamo familiare della storia di Luca che poi potrebbe sembrare anche un po' lo sguardo di tutti noi, no? Che in un certo senso capiamo il percorso di Luca ma anche facciamo anche un po' fatica stargli dietro perché perché Luca Traponese nel suo nel suo percorso di vita proprio è un uomo come dico sempre che sembra venuto un po' dal futuro a dirci come saranno un giorno le cose quindi noi del presente dobbiamo un po' inseguirlo per stargli appresso. Mi viene in mente, mi ricollego subito allora un'altra domanda che volevo farti visto che hai detto sembra un po' un uomo del futuro, no? No, Luca è l'uomo del futuro. Luca che sembra un po' un uomo venuto dal futuro. Allora quando ci fu lo sbarco sulla luna fu pronunciata appunto la famosa frase un piccolo passo per l'uomo un grande passo per l'umanità. Nel film si parla di arrivare su Marte un pezzo alla volta, c'è questa bellissima metafora. Quanto secondo te nata per te, scusa la ripetizione, rappresenta un piccolo passo per il nostro cinema e un grande passo per l'intera società? Buona domanda. In questo momento ti direi, aiutami a capirlo, guarda io, quello che mi auguro io, allora quello che ti posso dire è che era nel mio percorso cinematografico ho sempre cercato di fare delle storie che come dicevo prima appunto un po' come Teresa nel film, le storie non facili ma storie impossibili e devo dirti che negli anni è stato anche impossibile farle nel senso che tante volte ho preso porta in faccia. Nata per te, per me è una grandissima festa, quest'anno sono dieci anni dal mio primo film, quindi è una bellissima festa perché perché finalmente si può parlare, si fa un film in cui si può parlare di queste cose, si può parlare di questi temi e lo si può fare al grande pubblico e questa è la cosa che mi rende molto orgoglioso. perché il film è stato prodotto da Cattleya, che ringrazio tantissimo, è distribuito da Vision, distribuito in tantissime sale e questo è un bellissimo segno che va secondo me incoraggiato, quindi colgo l'occasione anche per fare un appello. andiamo a vederlo al cinema, se ci piace questo tipo di storie, se vogliamo vedere questo tipo di storie al cinema, andiamo a vederlo al cinema il prima possibile perché è importante per tutte le altre storie come queste che sgomitano per arrivare al cinema e che, ve lo dice uno che appunto ha preso tante porte in faccia, è difficile portare al cinema, quindi questo sia, credo sia un bellissimo risultato. non solo perché parla di diritti dei singoli o delle persone omosessuali, su cui è stato fatto film sulla comunità, raramente film sui diritti della comunità, di solito si fanno più film sulle storie d'amore, sull'identità di genere, che possono avere sicuramente anche una valenza politica, però raramente è un film che esplicitamente parla di diritti. io mi ricordo quando abbiamo fatto la scena in cui Teresa Saponangelo dice, cioè l'avvocata dice alla giudice, è assurdo vivere in un paese che non consente ai singoli e omosessuali di adottare, io mi sono messo a piangere, ho pensato, sono anni, spero che un personaggio di un film italiano dica una frase del genere e finalmente ce l'abbiamo fatta, quindi per me, io, non è Marte, però diciamo, mi sento un po' lanciato nello spazio verso un pianeta, vediamo quale pianeta sarà, però c'è anche un altro tema che secondo me è tanto tabù, è stato tabù, è tabù nella nostra società e purtroppo l'è anche al cinema, che è la disabilità, nel cinema ovviamente mainstream, insomma nel cinema largo di pubblico, nel senso che è difficile, proprio perché la nostra, io credo che la disabilità sia l'ultimo tabù che la nostra società in questo momento ha, cerchiamo di non vederla, di metterla da parte, di non raccontarla neanche, no? che era quello un po' che si faceva sempre con l'omosessualità 40 anni fa, 30 anni fa, e nel cinema quando si parla di, nel cinema diciamo largo, quando si parla di disabilità si tende ad edulcorarla, si tende a renderla, come dire, il più vicino a, alla non disabilità in un certo senso, e invece la cosa di cui sono fiero è che in questo film abbiamo girato in una delle strutture, per disabili create da Luca, con i ragazzi disabili della struttura, e che recito, cioè sono proprio personaggi, e questo per me è stato un motivo di grande orgoglio, per me dirigere Raffaele, che nel film interpreta il miglior amico di Luca, ed è uno dei ragazzi disabili del centro, dal punto di vista registrico mi hanno orgoglito, perché ho detto che è bello, non abbiamo chiamato un attore, gli abbiamo detto, di interpretare una persona disabile, ma è una persona disabile che interpreta il personaggio, una persona disabile, e che quindi in un certo senso può dare voce a, a cosa vuol dire, la, essere una persona disabile in questo paese oggi, e proprio l'altro giorno la prima, la prima proiezione di uscita l'abbiamo fatta a Napoli, e c'erano i ragazzi di Arrota Libera, del centro dove abbiamo girato, tra cui anche Raffaele, Roberto, tutti quanti, per me è stato un regalo bellissimo vederli in sala, e vedersi, vedersi in sala, che non era, loro come anche gli operatori del centro, perché non era, non era qualcosa di, come dire, che bello io mi sto vedendo al cinema perché sono una star, no, era proprio, che bello vedere, no, noi, la nostra, l'essere noi, l'essere disabili oggi raccontato così al cinema, e quindi credo che questo forse tra tutte, tra tutti i pezzi verso Marte, sia forse il pezzo di cui io vado più orgoglioso. A proposito delle proiezioni, tu stai portando il film in tour, potremmo dire, proprio per tutta l'Italia, in varie sale, qual è l'accoglienza del pubblico, cioè qual è il pulso della situazione della sala viva e del pubblico, come sta accogliendo il film? Allora, ci riflettevo proprio stamattina perché, diciamo che il film è uscito l'altro ieri, quindi ieri abbiamo fatto questa proiezione a Napoli, in cui in realtà mi sono molto concentrato su quello, sui ragazzi del centro, dei ragazzi della ruota libera, e ieri invece abbiamo presentato il film in tre sale di Napoli, molto diverse, un cinema a Bagnoli, dove c'è un circolo del cinema molto ricco, la perla, un multisala The Space e il modernissimo in centro. Tre pubblici, quindi molto diversi tra loro, e sono state tre presentazioni molto diverse. In generale, quello che mi colpisce è l'impatto emotivo, e di cui sono molto contento, l'impatto emotivo che c'è in modo anche trasversale. La grande sorpresa sono gli uomini eterosessuali, che sono molto, molto emotivamente colpiti dal film, perché parla di paternità, e la paternità è qualcosa, anche quella poco raccontata al cinema, o se raccontata, raccontata in un determinato modo. Purtroppo l'Italia è un paese di madri, in un certo senso, raramente un paese di... Cioè, la mamma ce n'è una sola, sì, ce n'è in Italia, ma di padre, insomma, non si racconta più di tanto. E quindi, beh, cioè, ho visto veramente un impatto su degli uomini molto forte, in modo trasversale rispetto anche alla classe sociale, provenienza, eccetera. Però invece mi ha colpito tanto l'impatto emotivo, ovviamente, che c'ha Luca, la storia di Luca, in modo generale, anche generazionale. Ma i dibattiti dopo sono stati interessanti, cioè le domande. Perché anche lì, rispetto alle tre sale, in modo uniforme, c'era voglia, c'era questo senso di... È importante in questo momento raccontare queste cose in Italia, questo film dobbiamo vederlo tutti, devono vederlo i ragazzi, portiamolo nelle scuole. apprezzato il lavoro fatto, diciamo, in modo quasi documentaristico sulla disabilità, quindi questa verità, in un certo senso. Però devo dire anche una cosa, che in sala, oltre al rumore di fazzolettini che sento a un certo punto e che è molto emozionante, sono anche le risate che a me piacciono tanto. Ci sono, c'è i momenti del film che sono vari nel film, eh? In cui, e come ho capito, ci sono gli appuntamenti fissi, in cui la gente, la sala proprio ride, ma ride tutta. E quello è molto bello, perché non è una storia, non volevamo fare una storia pesante, nel senso una storia cupa, triste. No, io sono abituato a fare quei film, cioè il mio primo film, il sud e niente, era un film di una tristezza infinita. E invece, è proprio bello, mi piace il suono di quelle risate, perché c'è una risata proprio veramente collettiva, che non è soltanto di leggerezza, ma anche un po' liberatoria, cioè del dire che bello che è successa questa storia veramente. Nata per te, alla fine, è una grandissima storia d'amore, potremmo dire, di tutti i generi che può affrontare o che può ricordare, è una grandissima storia d'amore. Pur partendo quindi da una vicenda particolare e vera, è una storia vera, secondo te riesce, alla luce di tutto questo che ci siamo detti, a intercettare delle corde emotive collettive, a raccontare quindi qualcosa di universale? Allora, credo che la forza della storia di Luca e Alba vera, cioè quello che fanno Luca e Alba sui social quotidianamente, abbia a che fare proprio con questo, cioè col fatto che al di là di religioni, credo politici, o di orientamenti sessuali di genere, o se credere o meno nella famiglia tradizionale, eccetera, io credo che quello che arrivi della storia di Luca e Alba, la storia vera, è proprio questo, questo fatto che la vita è più forte, la vita e quindi l'amore, è più forte di tutte queste sovrastrutture. e quindi ritrovo, ho ritrovato negli anni, cioè dall'anno scorso quando abbiamo iniziato a lavorare al film, fino ad oggi, tante persone che appunto appartengono a tutte queste sfere diverse, eppure riconoscono questa forza della vita. E quindi io credo di sì, personalmente credo di sì. Se questa cosa poi corrisponde anche a, alla percezione del film è quello che mi auguro, perché l'intenzione era proprio quella. Non volevamo fare un film contro qualcuno, non volevamo fare un film che denunciasse qualcosa, volevamo fare un film che raccontasse, e che raccontasse a tutti. Non lo dico per populismo, lo dico veramente perché forse chi deve ascoltare questa storia è più chi pensa che esiste un distingo tra le persone, esiste un distingo tra le famiglie, esiste un distingo tra chi può avere dei diritti e chi no. e quello che mi auguro è che siano proprio queste persone a vedere il film. Non per insegnarli niente, ma proprio per dirgli è successa questa storia, e questa storia dobbiamo prenderne atto che è successa questa storia. Allora mi collego a questo discorso in parte con la prossima domanda, perché riguarda un po' il coraggio della nostra industria audiovisiva. Secondo te dovrebbe avere più coraggio nel miscare dalla realtà per raccontare non solo logici, ma anche per raccontare nuove storie? E mi ricollego anche a quel discorso che facevi prima sulla rappresentatività, sullo schermo, quindi per mostrare una porzione sempre più ampia della realtà, della società in cui viviamo. Da morire. Io sono cresciuto, allora io vengo da le palazzine popolari di Reggio Calabria. Per me il cinema, il cinema mi ha insegnato la vita, mi ha insegnato ad essere l'uomo che sono diventato e che continuo a diventare, mi ha insegnato a guardare, a scoprire le cose, a conoscerle e anche a intravedere un po' il futuro in un certo senso, a conoscere il passato anche. Mi ha insegnato tutto praticamente. E quindi io credo che il cinema abbia quella funzione e la deve mantenere fortissima. e sì, negli ultimi anni l'abbiamo persa, sicuramente, tranne bellissimi, rarissimi casi, però l'abbiamo persa purtroppo, la stiamo perdendo. Quindi credo che sì, serve più coraggio e serve anche, secondo me, ascolto da parte del pubblico. Quindi serve iniziare a raccontare queste storie, ma iniziare a ragionare su come le raccontiamo e a chi. Quindi dobbiamo cercare di non essere autistici quando le raccontiamo, cioè di non quindi raccontarle solo a noi stessi, ma a noi stessi, ma riuscire veramente a raccontarli al pubblico, piccolo, grande, va tutto, immenso, piccolissimo, però al pubblico. E l'altra cosa che dobbiamo riuscire a fare come industria è sicuramente sostenerle e sostenere la sala e la formazione anche alla sala, l'educazione anche alla sala, l'educazione all'audiovisivo, cioè proprio questo messaggio deve passare, dovrebbe essere una campagna promossa dal ministero, quella dell'educazione alla sala, come tutte le altre, con la stessa dignità. Quindi io credo di sì, anche perché io credo che in questo momento storico c'è questa esigenza e il cinema può avere questa funzione come l'ha avuta in passato. io credo, anch'io ho fatto delle scelte commerciali a un certo punto, ovviamente, nella mia carriera e credo che sono, cioè nel senso, credo che non bisogna fare un distinto, non c'è chi è contro e chi è a favore in un certo senso, le due cose possono coesistere, cioè dare spazio a questo tipo di cinema, non vuol dire levarlo a quello commerciale, anzi, possono coesistere perfettamente l'audiovisivo in realtà in un momento di boom. Quindi io credo che sia veramente una questione di equilibri. Posso dirti anche un'ultima cosa, e poi non mi sto dilungando, che lo dicevo ieri durante una presentazione. Quando facevo il centro sperimentale qualche anno fa, ho fatto un corto che parlava di un amore omosessuale e non è stato proiettato alla sera dei diplomi per non urtare la sensibilità delle famiglie degli studenti. Oggi nata per te esce nata per te che viene dopo il Sud e Niente, il Padre d'Italia, quindi un percorso in cui no anche quelli insomma non è che proprio hanno avuto una distribuzione meravigliosa. Quindi oggi nata per te arriva nelle sale di tantissime sale, non mi sarei mai aspettato questo numero di sale. Credo che sia un ottimo segnale come anche quello che sta facendo ovviamente il maestro Matteo Garrone in questo momento, come quello che mi auguro faccia anche il film di Agnieszka Holland quando uscirà. Io credo che in questo momento c'è un segnale positivo. Il film di Garrone ha fatto una rimonta meravigliosa, quindi io credo ci sia un segnale positivo dopo questi anni terribili del Covid. Io spero che e dopo questi 15 anni di monopolio di alcune alcune un genere mainstream cinematografico che invece ignorava tutti questi argomenti. Quindi io credo che sia un buon momento. a proposito di questa comunicazione con il pubblico e tu parlavi appunto proprio di relazionare le storie che vengono raccontate sullo schermo grande o piccolo con il pubblico. Credo che almeno da spettatrice in qualche modo la scelta musicale del mio canto libero di Lucio Battisti sul finale senza fare spoiler sia stata forse una delle scelte più di impatto proprio emotivo e in qualche modo mi hai ritornato in mente che avevi fatto un'operazione analoga anche con il Padre d'Italia scegliendo la Bertè con il Mare d'Inverno qualche cosina proprio su queste scelte musicali se sono dettate da cosa sono dettate? Allora io c'ho una fissa prima o poi mi passerà però è una fissa nella vita non solo nel cinema che io credo fortemente nella non casualità della musica cioè io da quando ero ragazzo pensavo che se passava quella canzone alla radio era perché mi stava dicendo qualcosa e quindi che dovevo sentire il testo di quella canzone mi stava dicendo qualcosa quindi nei miei film purtroppo rivive questa ossessione e quindi le canzoni parlano ai personaggi o le canzoni sono i personaggi che dicono qualcosa e cioè i personaggi parlano attraverso le canzoni quindi quindi quei testi risuonano nella storia o sono qualcosa che il personaggio non riesce a verbalizzare e quindi lo dice attraverso la canzone o è qualcosa che la storia sta dicendo al personaggio ma è così anche un po' in tutti nel Sud e Niente l'unica sequenza musicale è una canzone del Junior Boys che racconta l'espload di vita del personaggio in quel momento del padre d'Italia c'è il mare d'inverno che un introverso Luca Marinelli ovvero Paolo sussurra per raccontare che la sua laconica solitudine e anche in My Soul Summer addirittura lì è un po' un'apoteosi perché il personaggio interpretata da Casa di Lego di fatto usa la musica proprio per raccontare se stessa più volte nel film fino alla fine qui devo dire che è un po' è ancora di più e non è solo la canzone di Battisti anche i Plasibo nella prima scena You Don't Care About Us è proprio un po' un urlo arrabbiato di noi che non veniamo visti come anche la canzone che canta Yaya è un omaggio un po' a quello quello sguardo innamorato che Luca ha di Alba nel film e in quel momento del film perché Luca l'ha appena vista in ospedale e fino ad arrivare ovviamente al mio canto libero ci siamo sessionati a cercare quale fosse la canzone giusta ovviamente quale fosse quindi il testo che Luca potesse cantare ad Alba per quella Ninna Nanna e e ovviamente non lo savamo pensare abbiamo pensato a tante canzoni poi un giorno io sono cresciuto a pane battito perché mia mamma mi ha allevato proprio con Battisti e quindi io lo ascolto spesso e quel giorno all'interno stavo andando a Napoli stavo nella mia playlist battistiana e a un certo punto mi imbatto nel mio canto libero e e dico ma sembra scritta da Luca per Alba e dico lo dico ai produttori sapendo che non che non ce l'avrebbero mai data perché non è stato cioè non viene mai data una canzone di Battisti per i film e e invece ce l'hanno data cioè abbiamo permesso di sincronizzarla e mi fa piacere pensare che sia stato fatto per Luca e Alba grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti